A 16 anni di distanza, il campionato del mondo torna in Europa. L'edizione del 50 in Brasile ha rilanciato il valore e l'importanza della manifestazione dopo il periodo di pausa forzata dovuto alla seconda guerra mondiale. Nel 1954 si va in Svizzera e l'attesa è enorme. Siamo in fase di sperimentazione, la formula del torneo cambia di continuo. Dalla doppia fase a gironi applicata in Brasile, si torna ad un primo step con quattro gruppi da quattro squadre ciascuno ed una regolare fase di eliminazione diretta, quarti, semifinali e finale. La novità è che ogni girone presenta due teste di serie che non si affrontano fra di loro e in caso di parità di punti fra la seconda e la terza classificata si procede con lo spareggio. E a chi tocca lo spareggio? A noi, all'Italia. C'è grande curiosità nel nostro paese in vista di questo mondiale. Per tanti motivi, il 3 gennaio del 54 la Rai ha ufficialmente iniziato a trasmettere e dunque quello in Svizzera è il primo mondiale visibile in televisione per tutto il popolo dello stivale. La nostra formazione però non è certo la migliore di sempre. È guidata da un ungherese, Laio Seisler, ex allenatore del Milan, coadiuvato da Angelo Schiavio, fuoriclasse degli anni d'oro azzurri di Vittorio Pozzo. La prima gara la giochiamo il 17 giugno con la Svizzera a Lausanna. Non basta il gol dello juventino Gian Piero Boniperti e l'arbitraggio del brasiliano Mario Viana, in seguito radiato dalla FIFA, viene pesantemente contestato per una rete annullata a Benito Lorenzi. Sarebbe 2-1 per gli azzurri, ma l'arbitro la pensa diversamente. Inutili le proteste degli azzurri, inutile anche l'intervento del segnaline. La rete non è ritenuta valida. Vinciamo la seconda partita, ne rifiliamo 4 al Belgio e a Lugano, ma siamo costretti come detto allo spareggio perché l'Inghilterra batte gli svizzeri che si ritrovano con due punti, esattamente come noi. Il 23 giugno a Basilea, rivincita, ma vincono di nuovo loro. 4-1 e torniamo a casa. A rientro in Italia la federazione darà il ben servito anche al tecnico Seisler. Brasile e Jugoslavia eliminano nel girone 1. Francia e Messico. Nel girone 3 c'è l'Uruguay campione del mondo a guidare la Celeste. C'è solo uno dei due protagonisti del Maracanaso, il maestoso Juan Alberto Schiaffino. Ghigia, che gioca nella Roma, non viene convocato. Basta e avanza per passare il turno. Assieme agli Uruguagi avanza l'Austria, fuori Scozia e Cecoslovacchia. Poi c'è il gruppo numero 2. Le esordienti Turchia e Corea del Sud vivono una bella avventura, ma vanno a casa. I coreani in particolare non fanno una gran figura. Perdono 7-0 con i turchi e 9-0 con l'Ungheria. Ah già, l'Ungheria sono i favoriti assoluti della competizione. Vantano un potenziale spaventoso, giocatori pazzeschi che scriveranno la storia. C'è il centravanti, il bomber Sandor Kocis, che tra il 58 e il 65 segnerà parecchi gol con la maglia del Barcellona e che chiuderà la sua avventura in nazionale con 75 reti in 68 partite. Colpirà ben 11 volte al Mondiale del 54. Record provvisorio in una singola edizione. Verrà battuto 4 anni più tardi nel 58 dal francese, Jas Fontaine. Poi c'è Nando Rideguti, il gioio offensivo. L'uomo ovunque, ala, trequartista, centravanti arretrato. Un calciatore favoloso. Verrà anche in Italia vestendo le maglie di Fiorentina e Mantua. E poi lui, uno dei 10 giocatori più forti di sempre. Altro elemento completo, in grado di giocare e segnare dappertutto. Sarà uno dei protagonisti degli anni del grande Real, cantati dagli 883. È Ferek Puskas, 616 gol in carriera in 620 partite. Semplicemente un marziano. Gli ungheresi passeggiano, nove reti alla Corea e battono 8 a 3 la Germania Ovest a Basilea il 20 giugno. I tedeschi, esclusi nel 50 in quanto paesi aggressori nel conflitto armato appena concluso, sembrano non far paura a nessuno. Hanno una squadra appena discreta, capitanata dal veterano Fritz Walter, 34 anni, pilastro e bandiera del Kaiser Slautern, ma non certo all'altezza delle meravigliose formazioni che proporranno un futuro. Però sono tedeschi e il loro DNA suggerisce che bisogna puntare sempre al massimo, alla vittoria. Dopo gli otto gol incassati con gli ungheresi, sono costretti allo spareggio con i turchi. Vincono 7 a 2 e vanno avanti. Passano anche il turno successivo, vincendo per 2 a 0 con la Jugoslavia. Bene l'Uruguay, 4 a 2 all'Inghilterra. E il derby Austria-Svizzera si conclude con un pirotecnico 7 a 5 in favore degli austriaci. Se non lo aveste ancora capito, quello del 54 è un mondiale record in fatto di gol. 140 in 26 gare, media superiore ai 5 a partita. Ai quarti c'è una sfida che verrà ribattezzata alla battaglia di Berna. Si affrontano Brasile e Ungheria. Vinceranno 4 a 2 gli ungheresi per l'unica volta nella loro storia più forti, nettamente più forti, dei brasiliani, nonostante l'assenza di Puskas infortunato. Ma oltre ai goli alle grandi giocate, la gara resta nella storia per fargli assassini, violenze in campo e fuori, risse e colluttazioni. Puskas che è lì ai bordi del terreno di gioco. Durante una lite furibonda rompe una bottiglia in testa al calciatore brasiliano Pigneiro. Alla fine l'arbitro inglese Arthur Ellis espellerà tre giocatori, due brasiliani e un ungherese, ma non verrà preso alcun provvedimento di squalifica da parte della FIFA. Poi la partita degenera, Bozic non fa complimenti con Ninto Santos e l'arbitro è intervenuto un po' troppo tardivamente lì e spelle. A due minuti dalla fine rompe Coccis e il quarto gol è fatto. L'Ungheria ha eliminato l'avversario. L'Ungheria, sempre priva di Puskas, in semifinale trova la squadra campione del mondo, l'Uruguay. Secondo tutti praticamente una finale anticipata o quella che sarebbe stata la finale ideale. A fine primo tempo gli ungheresi vincono 2 a zero. Sembra un'altra formalità espletata, ma la Celeste a cuore, anima e tecnica, il centravanti Juan Hoberg, argentino naturalizzato uruguaggio, ne fa due. Si va ai supplementari e la decide con una doppietta, lo spietato Coccis. Finale 4 luglio 1954, Wankdorfstadion, Berna. L'Ungheria di fronte a sé trova la Germania Ovest che ha vinto, anzi stravinto, per 6 a 1 la sua semifinale con l'Austria. L'ottima notizia per il tecnico maggiaro Gustav Schebes è il piano recupero di Ferenc Puskas che gioca dal primo minuto e incide, e come se incide. Dopo soli sei minuti approfitta di un rimpallo favorevole in aria per freddare col mancino, il portiere tedesco Tony Turek. Due minuti dopo è proprio Turek a combinarla grossa, va in presa bassa in aria, sembra bloccare la sfera ma se la fa sfuggire. Lesto e scaltro, il numero 11, Cibor, deposita in rete, 2 a 0. Deviato da Ecker il tiro di Coccis, Puskas vuote la rete germanica. Non sono passati che 6 minuti, poi Turek si impatera su un retro passaggio di Kohlmeier e Cibor raddoppia il vantaggio. Cronaca di un triunfo annunciato, no, la Germania non ci sta. Decimo minuto, Morlock la riapre e al diciottesimo su sviluppi di corner. Una lunga palla calciata sul secondo palo diventa preda di Helmut Rahn che di destro fa 2 a 2. Al decimo sarà fatale anche agli ungheresi un retro passaggio. Si aventa Morlock e il gol è fatto. Tornano all'attacco i tedeschi che valeggeranno con l'ala destra Rahn. 4 gol in soli 18 minuti. Nel corso della partita l'Ungheria più volte la chance di tornare in vantaggio. Fra legni, salvataggi e miracoli di Turek, gli avversari fanno resistenza e all'ottantaquattresimo di nuovo Rahn. Trova il sinistro velenoso che porta i tedeschi in vantaggio. Poi prevale la freschezza dei tedeschi e a 6 minuti dalla fine sul centro di Scheffere corta respinta di Lantos. Rahn forgora la rete di Grossi. In vano l'Ungheria spenderà le ultime energie. Il gol non convalidato a Puskas per un dubbio fuorigioco all'ottantottesimo e l'ennesima parata di Turek all'ultimo secondo. Sono le ultime emozioni della sfida di Berna. Vince la Germania e non mancheranno sospetti e polemiche circa il possibile utilizzo di sostanze dopanti. Da parte della squadra del CT Herberger, di certo nessuno, ma davvero nessuno, poteva aspettarsi un simile epilogo. Quello del 4 luglio del 54 passerà ufficialmente alla storia come il miracolo di Berna.